RIVOLUTION Forza! 3, 2, 1 Revolution, benvenuti, sono Giosin, la vostra light training in questo Flesh Workout Booty & Abs da 20 minuti. Ti ricordo, Flesh Workout, workout bravi ma comunque superi per intensi ed efficaci. 8, 10, 15 o 20 minuti come nel nostro caso. Cosa andremo ad utilizzare? Tappetino, poi come ogni volta portata di mano, borraccio e asciugamano e come tool di lavoro utilizzeremo una mini band. Mi raccomando, mini band almeno media. Ora partiamo subito con il nostro warm up. Talloni in linea con le spalle, un respiro profondo, allugati bene verso l'alto. E quando punti tutto fuori, ti abbassi in massima cosciata, oscilli piano piano dalla gamba destra alla gamba sinistra. Stingi bene indietro i glutei. All right! Vai a terra. Da questa posizione mobilizza la colonna con delle goppe. Ispira, ispira e ancora. Punto le dita dei piedi, di nuovo massima cosciata, di nuovo destra a sinistra, uscillo. Risalgo srotolando. Piedi dritti, anteroversione del bacino, quindi bacino in fuori. Good morning! Scendo avanti, crea un angolo di 90 gradi tra petto e gambe, torno su. Petto largo, schiena lunga. Ancora quattro, rap. Ancora tre. Stingi bene indietro i glutei e sale su. Mantieni sempre indietro il bacino. Due. Dammi l'ultimo. Uno. Ok, revolution. Davanti a noi, primo blocco di lavoro. Otto minuti di lavoro. I primi quattro saranno con focus appunto i glutei e poi passeremo con quattro minuti all'addome. Ora, bend sotto il piede destro. Mano sinistra che impugna. Good morning, mano laterale o stacco semiteso. Piede sinistro leggermente indietro. Stingi dietro i glutei. Scendi avanti e sali. Stai ripetendo lo stesso identico movimento che hai fatto prima a piedi pari. Ora però focus, prima un bicipite femorale e un gluteo, poi quello opposto. Addome attivo. Quattro, tre, due, uno. Cambia. Bend sotto il piede sinistro. Mano destra che impugna. Punta del piede destro. Appoggiata e via. Spingi bene indietro i glutei. Le. Scendi, schiena piatta e sali. Senti i glutei lavorare. Come on. Pronto ad andare a terra in bridge. La bend la posizioneremo. Leggermente sotto le ginocchia. Tra tre, due, uno. Via. Inserisco la bend e mi sdraio a pancia in su. Supino. Piedi a ballerina. Bend in tensione. Sali, strizza e appoggia. Quando sali, massima retroversione dei glutei, del bacino. Le. Sali, strizza, spingi il più in alto possibile il bacino. E scendi. Ovviamente la bend mai lassa. Quindi sempre in tensione. Sali, strizza e torna giù. Stai su. Solo molleggi in fuori. Tieni. Rimani, rimani su. Su bene il bacino. Spingi verso l'esterno. Addome attivo. Come on. Quattro. Tre. Due. Uno. Tiri alzio in piedi. Mini band. Leggermente più in basso. A livello delle tibie. Solo dei tap. Da destra a sinistra. Piedi a ballerina. Tap a destra. Poi tap a sinistra. Andiamo qui. Solo glutei che lavorano. Busso leggermente flesso avanti. Spingi indietro i glutei. Non stare su dritto qui. Ok. Alterna destra a sinistra. Prova ad accelerare. Via. Che veloce. Solo destra qui. Solo sinistra. Via. Solo destra. Go. Solo sinistra. Solo destra. Solo sinistra. Alterna. Destra a sinistra. Via. 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 Ultimo minuto di lavoro. Come on. Vai a ritmo ora. Go. Piedi a ballerina, mi raccomando. Spingi bene indietro i glutei. I diamanti con il busso. Solo destro. Qui. Solo sinistra. Solo destro. Solo sinistra. Qua, disometrico. Qui. Stai. Spingi bene indietro i glutei. Immobile. 20 secondi di molleggi. Via. Spingi bene indietro i glutei. Fuori le ginocchia. Tienilo. 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 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Andiamo con l'addome. Lascia la band dov'è. Solo crunch. Subito. mani dietro la nuca con metti larghi stacco le staccole da terra ogni volta che sali butti fuori l'aria dalla bocca 3, 2, 1 rimani su qui gambe piccoli pose verso l'esterno attento i piedi no punte in fuori al contrario punte in dentro questo è bruttissimo da vedere lo so ma è super efficace per i glutei scendi un po' più in giù oh qui tienilo sali e scendi sei ancora su con le spalle le spalle sono staccate da terra vero? 4, 3, 2, 1 vado in sit up respira sempre ben in tensione mai lassa questo punta bene i talloni a terra come quando mi fai un bridge le spalle come on non mollare revolution segua mei 4, 3, 2, 1 plank attenzione alto la venda lasciala ancora una volta lì andiamo a fare un bellissimo plank con dei kick quindi alterna a destra poi a sinistra go il kick come hai visto non è esattamente in alto ma è in obliquo un pochettino verso il lato come on yes mantengo plank solo plank stai 4, 3, 2, 1 appoggio solo abduzione destra apro laterale via respira ci sei go, go, go 4, 3, 2, 1 cambio sinistra via tienilo tienilo 4, 3, 2, 1 alterna destra sinistra via non mollare ultimi secondi e arriva a recupero l'unico minuto di recupero di oggi go, go come on 4, 3, 2, 1 recupero alright revolution asciugati baby ora tra esattamente 40 secondi andremo a ripetere questa struttura di lavoro quindi abbiamo visto 4 minuti di lavoro con focus glutei 4 minuti di lavoro a dove ora ti chiederò di darmi il numero maggiore possibile di rep per ogni esercizio non ti preoccupare perché andiamo a riprendere gli stessi esercizi quindi non aggiungo più prova da man mano un filo più veloce ci sei? ok via la mini band riparto quindi dal mio rdl nonché stacco semiteso mano laterale band sotto al piede destro mano sinistra che impugna 3 2 1 via 30 secondi go go come on spingi bene indietro i glutei via via go 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 so spingo bene indietro i glutei mantengo il petto largo la schiena piazza devi sentire lavorare il gluteo e il sottogluteo destro 4 3 2 1 lavori passami il termine un pochettino in velocità comunque assicurati di darmi l'esecuzione corretta e pulita dell'esercizio piede sinistro che fa perno piede destro appoggi solo la punta del piede nei miei low body workout comunque questo esercizio l'abbiamo già visto più e più volte 4 3 2 1 via vado a lavorare in bridge bend sotto le ginocchia mi straio e subito piedi a ballerina sali e strizza go 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 come on ci sei pronto a rimanere su e a darmi quelle piccole spinte laterali quelle abbezioni in 4 3 2 2 1 stai su solo abbezioni apro go come on woo booty on fire babe go 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 4 3 2 subire il bacino 1 via tap mi rialzo mini band sulle tibie piedi a ballerina bacino in fuori gusto leggermente presto avanti destra sinistra attenzione perché questi tap diventano delle vere e proprie abduzioni 4 3 2 1 gamba destra si muove gamba sinistra fa perno solo abduzione go 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 come on hai sempre il busto flesso avanti vero? non sei qui ma sei qui è molto importante che tu sia posizionato correttamente perché in questo modo il focus è appunto il glupio così sto lavorando meno stai avanti 4 3 2 1 cambio destra perno sinistra apre go 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 ci stai revolution pronto a ritornare ai tuoi tap tap 4 3 2 1 alterna via solo tap come on solo destra solo sinistra alternato yes come on keep it up 4 3 2 pronto all'isometria in squat 1 via scendo e tengo isometria qui pienino pienino ginocchia ginocchia larghe non mollare revolution molleggi spingibili fuori vai che ci sei go 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 non venire qui non sale nemmeno qui giù abbassa e molleggia 4 3 2 1 via crunch te lo ricordi? subito via veloce veloce piccoli veloci occhio però non sforzare il collo non farvi questo mantieni sempre i gomiti larghi go 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 pronto a rimanere su in 4 3 2 1 stai su e tieni pulse 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 su bene le spalle spingo verso l'esterno punta all'interno talloni esterni scendo salgo scendo salgo scendo salgo scendi stai giù qui non arcare la schiena tienilo tienilo 4 3 2 1 via sit up come on revolution sono gli ultimi 2 minuti di lavoro via con il sit up vai 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 su e su band in tensione mi raccomando pronta ad andare in plank ci sei ci sei 30 secondi respira non mollare 4 ancora 3 via ancora 2 dammi l'ultimo subito mi giro il mio super plank te lo ricordi alto mani larghezza spalle e il kick in obliquo vai revolution non ti fermare sono attenzione mattaglione gli ultimi 60 secondi di lavoro non mollare adesso sei ancora in plank pronto all'isometria tra 4 3 2 1 solo isometria plank stai 4 3 2 1 appoggio abduzione destra go 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 4 3 2 sinistra hey 4 3 2 ultimi 20 secondi alternato chiudi il tuo workout alterna go 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 oh vaia ci sei 5 4 3 2 2 2 2 ancora ultimo per ogni lato yes revolution flash workout completed via la band molto bene subito di posizione in ginocchio avanzi con il piede destro spingi in fuori il ginocchio come è andata revolution 20 minuti booty and abs mi raccomando fammelo sapere mi trovi su instagram come jostlein.gram inoltre io ti invito a provare anche gli altri flash workout trovi anche semplicemente abs o anche tora fori quindi brevi ma come hai visto comunque intensi ottimi per quanto sia pochissimo tempo revolution ottimo workout io ti aspetto nella tua library anytime anywhere cause the struggle is always real io no 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 no